Ciao ragazzi, sono Roger e oggi siamo con noi per careri ragazzi ok ragazzi, prima di vedere questo video sarà figo perchè è di Geomi, quello che mi manda nel mondo, vabbè lo vedrete dopo, puoi farvi vedere una cosa prima che adesso la tengo ragazzi, prima di farvi vedere diciamo che è un prototipo, un prototipo, non lo riesco a dirlo è una cosa figa che io sto pensando tanto il tempo e vediamo se io riesco a farlo siete pronti a vederlo ragazzi, siete pronti? ah sì, un cappello personalizzato mio per vedere, penso che ci sia una cosa per la mia tutta questa persona, ah sì, un cappello personalizzato completamente guardato ok, non voglio far vedere questo, è un prototipo creato da me, perchè ovviamente di fare i capelli e magliezza personalizzate, tutto quanto tu ti vuoi riuscire a vedere e comprare, però niente, mettete il like se mi appoggiate a questa foto qua e se volete tornare sotto c'è un link in descrizione se volete tornare soldi, così riesco a fare più magliezza per voi e tutto quanto, però niente, niente, questo è tutto questo qua e allora andiamo al video ok, siamo qui, potete vedere che il scorso video mi sa che ha avuto 9 like o beh ha avuto tanti like perchè io quando lo sto rifacendo, ragazzi, mettete il like perchè youtube ultimamente sta andando malissimo, mettete il like dai, almeno così si so che vi faccio un video e posso continuare felice, perchè con un like sono felice, ma niente, vi ricordo di fare il gioco come va bene, non voglio respirare, allora guardando, guardando da qua sembra, quando lo faccio, mi sa di conoscere per la cosa di, mi sa di conoscerelo, ragazzi, o se lo sa ho, guardando un premio, guardando un premio, guardando un premio ho invito e lo faccio in una foto, ho visto, guardando un premio, guardando un premio, il una cosa strana questo posto sarebbe lo più necessario io metterai Norvegia o Irlanda io so, Irlanda forse e c'è tanto Irlanda speriamo caso aspettiamo già di qua non c'è tanto la vecchia Irlanda non vuole sparare cazate ma non vuole ma non vuole ma 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 guardiamo un gueto questo paesaggio qua non mi viene io mi torrii a texas il texas non mi sono andati il texas è un'altra parte non credo sia il texas no? eeeh, vediamo si mi sai, ragazzi tu hai prof di geografia, se mi stai guardando per favore, perchè le medie ors qui non mi avessi visto non mai avessi visto 9 eh, sono bravo io in geografia davvero mi dice che è gentile davvero eeeh ragazzi aspettate il problema è che si è in Argentina ma è vicino dove vivo io davvero proprio vicino dove vivo io vabbè allora mi sono sbagliato poco di geografia e spero che tu non stia guardando questo video sennò oh 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 questa cosa qua non mi piace davvero mi metto nel posti ok direi nuovo Argentina vediamo 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 Ok, posso guardare l'ultimo, almeno posso guardare il forno giusto, dai 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 Posso guardare il forno giusto Ok, l'exico di una casetta Ah, mi fai andare Ah, un casetto, un casetto Un casello, però è l'exico di un casello Ok, vediamo cosa dice il casello Se qualcuno ci capisce qualcosa ragazzi mettete il like o scrivete nei commenti cosa dice perché non capisco un casetto Poi diamo un caso di lui Allora Dove siamo? No, vediamo che questo casello è quasi topo di lui Stop No, vediamo che questo casello è quasi topo di lui No, vediamo che questo casello è stoppio Perché il casello è stoppio, se fosse un topo di lui Stop, ok Sud america non è? Ehm No, vediamo che questo casello è quasi molto più Questo casello è quasi molto più, sì, molto più più di lui Ehm Questo casello è che parte Questo è un problema Questo è un problema Non soppi Non soppi Non soppi Non soppi Non soppi Allora sì, sono già che video corti Ma perché ultimamente sto facendo video corti Perché Guardate la mia faccia Guardate la faccia Se vuoi Sto mollendo di sonno ragazzi Sono stanco perché Sono tutto il giorno Mi sveglio presto E sto facendo una cosa Soprattutto adesso che sto facendo cosa Soprattutto adesso che sto facendo cosa I cappelli e tutto quanto Soprattutto la muscarella che vi ho detto Ma è un casino Allora per favore Mettete il like Con il like Io secondo che Questi ultimi video hanno tanti like Io farò video più lunghi Perché con il like a meno Mi date quella ispirazione in più Che io vedo che Voi guardate il video e mi piace Però mi date quella ispirazione in più Di continuare Per niente Ehm Io sono tanto di cosa qua Ehm Iscriviti ai metrics Sottotitoli Mi se vince Sottotitoli Sottotitoli Detta il kompito Ci vediamo al prossimo A cibo Ehm Tf